Tempo stabile nell'avvio della settimana di Pasqua, ma per poco. La settimana che ci poterà al weekend di Pasqua sarà caratterizzata da un avvio soleggiato, ma non per molto. Ecco gli aggiornamenti meteo per i prossimi giorni. I modelli meteorologici ci indicano l'avvio di due perturbazioni che apporteranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche, con piogge diffuse e venti forti durante la giornata di martedì e mercoledì. Giovedì, con il progressivo allontanamento della perturbazione verso i Balcani, ci attendiamo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Per il weekend di Pasqua torneremo ad aggiornarvi con maggiori dettagli appena possibile, in quanto la tendenza rimane particolarmente incerta.